NANA 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 Senti, io ti mando un sacco di messaggi Facebook, Messenger, Whatsapp Ma che vuoi? Come che voglio? Io voglio avere una relazione con te Ormai ci conosciamo da tre anni Voglio dire, se possiamo stare bene insieme Tutto sommato non sono da buttare Cioè, perché poi l'età passa Voglio dire... Non ho capito che cosa stai aspettando Ecco appunto, sto aspettando la persona giusta Scusa Mentre aspetti la persona giusta Perché non provi a divertirti con la persona sbagliata? Ehi, DANA Oh, DANA